L'artista Mauro Cuppone, ma cosa sei, cosa hai venuto a fare a Roma, Cuppone? Eeeh, che sono venuto a fare? A saltellare un po' di qua e un po' di là? No, si aspettava qualcosa rispetto al mondo dell'arte, che ci fosse qualcosa, qui è il deserto. Sì, infatti. Lì c'è San Pietro, lì mi devo andare a San Pietro a vedere il sarcofago del Papa Buono. Ma magari vado a farmi dare una benedizione. C'è anche voi Tila, si avvii. Va bene. Mi raccomando Cuppone, artista concettuale, lei adesso va a San Pietro e dice mi piacerebbe progettare il sepolcreto di un Papa. Mi hai letto nel pensiero. Ecco, vai, si avvii. Ciao. Cuppone. Vai, vai, vada. Tu glielo dici, ma dice, devo progettare il, devo progettare, quello che dicevo prima, devo progettare la tomba del Papa Nuovo. Ah, va bene. Anche quelli in futuro, va bene? Sì, 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 no, io vorrei avere proprio il, vorrei farli tutti. Vabbè, l'incarico. Certo. Tanto sopravviverò a tutti loro. Sì, però è una bella, una bella committenza. Vabbè. Te le due ruti.